La diagnosi precoce è, credo, la cosa più importante in reumatologia e questo è il motivo per cui la società italiana di reumatologia ha voluto puntare molto i fari sulla diagnosi precoce. L'artrite reumatoide nell'ambito delle patologie reumatologiche è probabilmente la prima delle patologie in cui la diagnosi precoce si è dimostrata francamente molto efficace in tantissime possibilità di evitare che questa malattia faccia danni. I primi dati sulla importanza di diagnosi precoce nell'artrite reumatoide, pensate, risalgono più di 20 anni fa. Quando ci si è accorti che una diagnosi precoce è un trattamento precoce, erano in grado di ridurre la disabilità della malattia, di portare a un miglior controllo di malattia, di ridurre tutte le complicanze legate alla malattia. Pensate ad esempio che una diagnosi precoce, un trattamento precoce nell'artrite reumatoide, questo è ampiamente dimostrato in letteratura, è in grado di ridurre la mortalità legata alla malattia, in particolare quella legata alle complicanze cardiovascolari che in questa malattia molto frequentemente complicano la situazione nelle malattie di lunga durata. La diagnosi precoce in artrite reumatoide è sicuramente una delle più importanti scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni. Al di là dei numerosi farmaci e le nuove strategie terapeutiche che abbiamo, la diagnosi precoce rimane il caposaldo per riuscire a trattare correttamente e bene i pazienti con artrite reumatoide. Ovviamente la diagnosi precoce in artrite reumatoide, così come in tante altre patologie reumatologiche, non è semplicissima, perché necessita di una capacità di diagnostica differenziale da parte del reumatologo non indifferente, perché chiaramente all'inizio molte patologie si possono presentare con dolori articolari, con tumefazioni articolari, così come in artrite reumatoide. Quindi grande capacità di diagnostica differenziale da parte del reumatologo, estrema importanza nel mandare il paziente precocemente dal reumatologo perché possa riuscire a fare questa diagnosi precoce, necessità di iniziare il trattamento efficace in artrite reumatoide per poter ridurre le complicanze e per poter portare a un'ottima qualità di vita e a ottimi outcome tutti i pazienti con artrite reumatoide.